È stata inaugurata sabato 10 dicembre 2011 negli spazi espositivi di Vea Bertossi a Pordenone l'ottava rassegna biennale di architettura, premio Marcello d'Olivo, evento curato dall'associazione Arte e Architettura in collaborazione con il Comune di Pordenone. La rassegna presenta opere realizzate in Friuli Venezia Giulia dal 2002 ad oggi ed è arricchita da una serie di eventi collaterali in occasione dei quali si rifletterà sullo sviluppo urbano di Pordenone tra passato, presente e futuro. Negli spazi espositivi di Vea Bertossi sono esposti 129 progetti suddivisi per tipologie di intervento, case unifamiliari, edifici residenziali plurifamiliari, edifici pubblici e di uso collettivo, edifici per la produzione e servizi, spazi aperti, architettura di interni, fotografano lo stato dell'arte e dell'architettura di qualità in regione. Il premio Marcello d'Olivo 2010 ha visto distinguersi in questa edizione numerosi studi di progettazione di Pordenone e provincia. All'inaugurazione era presente l'assessore comunale Martina Toffolo. È una mostra di architettura ed è molto importante e noi come amministrazioni semolieti, che sia la quarta tappa di questo percorso, che vede premiati i migliori architetti giovani della provincia e della regione del Friuli Venezia Giulia. Grazie a questa mostra noi riusciamo a mostrare ai pordenonesi quelli che sono i nuovi linguaggi architettonici e come l'architettura contemporanea bene si sa sposare e può convivere con il passato, con il recupero e con il restauro. Particolarmente felici poi siamo del fatto che il primo premio del 2010 sia andato a degli architetti pordenonesi e quindi ci rende particolarmente orgogliosi. Quindi invitiamo tutti i pordenonesi a venire in questo spazio, a vedere questa mostra che ha ingresso libero e che ci accompagnerà per tutto il periodo natalizio fino a metà gennaio.